7 ottobre 2019 Beata Vergine Maria del Rosario Maria, aiuto dei cristiani Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 10 In quel tempo i 72 tornarono pieni di gioia dicendo Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome E gli disse loro, vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni E soprattutto alla potenza del nemico Nulla potrà danneggiarvi Non rallegratevi però perché i demoni si sottomettono a voi Rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse Ti rendo lode, oh Padre e Signore del cielo e della terra Perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti Ed hai rivelato ai piccoli Sì, oh Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza Tutto è stato dato a me e dal Padre mio E nessuno sa chi è il figlio se non il padre Né chi è il padre se non il figlio E colui al quale il figlio vorrà rivelarlo E rivolto ai discepoli in disparte disse Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete Io vi dico che molti profeti re hanno voluto vedere ciò che voi guardate Ma non lo videro E ascoltare ciò che voi ascoltate Ma non lo ascoltarono La memoria che oggi la Chiesa celebra È quella della Beata Vergine Maria del Rosario Questo giorno si legò indussilubilmente alla vittoria contro la flotta dei Turchi Che stava per operare l'invasione dell'Europa Con una potenza militare straordinaria Le nazioni europee si allearono E con la partecipazione della flotta del Papa Sconfissero, pur essendo in condizioni di inferiorità numerica, i Turchi La battaglia avvenne il 7 ottobre 1571 A Lepanto, nel mare della Grecia Il Papa Sampio V Vuole rendere omaggio alla Madonna a cui aveva fatto ricorso Istituendo la festa in questo giorno dal 1572 Con il titolo di Aiuto dei Cristiani L'aggressione alla Chiesa e dall'Europa cristiana Avrebbe insegnato la scomparsa della fede E questa consapevolezza spinse anche il Duca di Savoia Emanuele Filiberto A partecipare alla battaglia Mettendo in mare tre galè Nella sua piccola flotta appena fondata Il vestillo sulla Capitana Era costituito da un quadrato bianco Con un solo al centro Nel quale era la Madonna E sorreggeva la Sindone In atto di ostensione La vittoria sulle forze del male È stata assicurata da Cristo e suoi Apostoli Dando a loro il potere di camminare su serpenti e scorpioni Faceva esaltare la sua forza attraverso i piccoli Che a lui si affidavano Nello stendardo della piccola flotta Savauda Il richiamo della Sindone esponeva La condizione evidente tra la salvezza donata Con la morte di Gesù E la madre si faceva sua mediatrice Il mostrare la Sindone Ai fedeli Indica come il figlio sia morto per dare la vita E quindi a non temere di donare la nostra Perché la sua vita continua a fluire Attraverso la fede nel suo popolo L'assistenza della Madonna è incoraggiamento Ad essere intrepidi Poiché ella ci è vicina La donna vestita di sole Che splende nel capitolo 12 Dell'Apocalisse È ben raffigurata Nello stendardo Savauda Ma cerchiamo immediatamente anche La tilma della Morenita Il mantello di San Juan Diego Che a Guadalupe nel 1531 Ricevete il miracolo dell'immagine della Vergine In una mandorla solare Con i piedi sopra la luna Il ruolo di Maria nella lotta contro il male Il serpente antico Ben descritto nell'Apocalisse Si dispiega lungo i secoli Con un aumento di interventi e segni Ad indicare che la lotta non è finita Anzi, si fa sempre più dura E le forze del male Quelle che hanno l'obiettivo di distruggere la Chiesa Il corpo di Cristo vivo sulla Terra Stanno avanzando con un incremento di numeri e potenza Il potere di Cristo è dato ai suoi fedeli Attraverso le mani di Maria La quale è la prima creatura vittoriosa contro il male E la genitrice del figlio di Dio Che come uomo redime l'umanità Entrambi segnano il punto di innesto della nostra umanità Povera e malata Ma che può ricevere la luce e la vita divina Grazie a colei che si fa nostra genitrice Per farsi nascere alla luce del figlio Il creatore affida a noi il figlio Il quale ci salva e ci redime Egli poi ci affida alla madre La quale ci educa la vita La fa scorrere nel suo seno mistico per noi E ci dona la vita del figlio Per istituirsi a lui rinnovati Maria la vittoriosa sul male Ci guida nella lotta Indicando suo figlio La sua forza La sua misericordia A Fatima la Madonna Vuole essere ricordata come Regina del Santo Rosario E chiese la sua recita Per la lotta in questo tempo Facendoci piccoli Entriamo a far parte dei suoi figli E con il potere di Gesù Possiamo anche noi Camminare sul male Senza essere divorati Dio vi benedica E con il potere di Gesù